Capitano, dopo qualche anno di servizio lascia Ribera, qual è il bilancio di questa sua attività? Il bilancio è sicuramente positivo, ho trovato una città con tantissime problematiche, dovute soprattutto alla presenza di ex comunitari e altre comunità di stranieri, ma è una cittadina viva che ha voglia sempre di continuare a lavorare e di crescere. Sono stato contento perché abbiamo ottenuto tantissimi risultati operativi importanti che hanno fatto crescere la fiducia nelle persone. E questo è una specie di circolo della legalità, lo chiamo io, perché aumenta la fiducia, aumentano le segnalazioni e le denunce e aumenta di conseguenza l'attività operativa. E quindi la gente ha maggiore stima nei confronti delle istituzioni e questo ne ha vantaggio per quanto riguarda il senso di sicurezza del cittadino. Soprattutto sul versante droga, dove lei si è molto impegnato, c'è ancora tanto da fare? Ancora sì, tantissimo. Io guardavo un po' i numeri, abbiamo fatto centinaia di arresti per droga, ma il fenomeno è tutt'altro che finito, continua, perché c'è tantissima richiesta. Dove c'è la richiesta ovviamente c'è sempre qualcuno disposto a rischiare pur di guadagnare qualcosa. C'è da fare tanto, soprattutto per i giovani. Bisogna investire tanto nella cultura della legalità, nelle strutture sportive. Poi qua c'è un esempio bellissimo, c'è l'Istituto Scanini, che rappresenta uno sfogo per i giovani artisti, per far sviluppare il talento musicale, che è qualcosa di spettacolare. Ci vuole questo per i giovani. Sindaco, Ribera comunque sta cambiando, ci sono anche molti elementi positivi, come sottolineava il Capitano. Sì, certamente. Io ringrazio il Capitano Proietti, con il quale c'è stata una collaborazione durante questi quasi due anni di mia sindacatura. C'è stata veramente grande collaborazione, soprattutto sotto il versante della lotta al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Si sono fatte diverse iniziative in collaborazione, collaborazione anche con la Prefettura, che hanno portato a grandi risultati. Purtroppo, devo dire anch'io, ma di questo insieme anche alle istituzioni preposte, quelle dell'ASP, quello della droga Ribera dell'uso e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti è una vera e propria piaga. Allora bisogna intervenire non soltanto in termini repressivi, ma bisogna lavorare e impegnarsi tanto in termini di prevenzione. Ecco che allora dobbiamo fare tanto insieme alle altre istituzioni, insieme alle scuole, insieme all'ASP, insieme alle associazioni. Sono nate diverse associazioni che ci stanno collaborando. Abbiamo ottenuto anche un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura, per il contrasto allo spaccio, alla cessione di sostanze stupefacenti. È stato creato un centro per l'ascolto, che in un anno ha raccolto diverse istanze di familiari, di genitori, che adesso hanno più fiducia nelle istituzioni e chiedono aiuto, perché il dramma era anche quello della, tra virgolette, dell'omertà, del silenzio di questa cappa che avvolge spesso le famiglie. Allora bisogna avere consapevolezza che il fenomeno c'è, è grave, va combattuto con la repressione, ma soprattutto bisogna intervenire dal punto di vista della prevenzione. E questo si può fare andando nelle scuole, già nelle primissime classi. Dobbiamo superare anche questo gap culturale, che ci fa cogliere ancora di più la consapevolezza di quello che deve essere il senso civico di ciascuno e dare delle proiezioni positive alle nuove generazioni.